Se non siete iscritti non c'è nessun problema, potete farlo adesso. Se non l'avete visto non c'è assolutissimamente nessun problema, ci pensa Max a parlare del duro faccia a faccia che c'è stato tra, argomento grande fratello VIP, Sonia Bruganelli e Luca Onestini. Al suo ritorno in studio dopo tre puntate di stop, la moglie di Paolo Bonolis ha dato subito spettacolo, senza perder tempo. Ma perché perder tempo? Quella di ieri è stata una puntata ricca di colpi di scena, segnata dalle rivelazioni di Andrea Maestrelli sull'ex Nicole Murgia. Rivelazioni queste a cui c'è chi non crede o c'è chi crede. Come al solito lo sapete, il pubblico è sempre a 50-50, ma non vi credete perché anche tra loro, ad esempio, Sonia non crede del tutto a Luca. E si è detto, quando sei entrato mi sei stato molto simpatico perché hai portato allegria, un sacco di cose. Poi, a un certo punto, hai switchato e hai completamente cambiato registro. Spiega così, Sonia Bruganelli. Gli altri sono rimasti a fare il reality. Tu stai facendo una soppopera un pochino sudamericana con Oriana, che fa rima con sudamericana. Ti sei scordato anche che il grande fratello è totalmente italiano. Voi vi mettete a parlare in spagnolo, ma perché? Non si sa il perché. Poi dici perché pensa uno male. Tu stai totalmente perdendo di credibilità, anche all'interno della casa. Perché? Perché vai in giro a parlare di Nikita, di altra gente, quando potresti farlo direttamente in faccia. E invece vai a parlare quando non ti vedono. Ma ti vedono, perché abbiamo 120 telecamere. Quello è il problema per te. Non fare il gradasso. Hai quell'atteggiamento. Ma ti dico, fidati. Quando Luca Onestini ha domandato se, a detta sua, quindi avesse ragione Dana sul suo conto, l'opinionista non ha avuto nessun dubbio. Ha detto, ha ragione Dana quando ti dà del pagliaccio. Eh sì, perché quando tu parli, sai la sigla che parte? Racconti un sacco di fandoni, di stupidaggini che non stanno né in cielo né in terra. E il ritorno in studio di Sonia non è stato accompagnato solo da applausi. Anzi, c'è stato anche dell'altro scorrendo i commenti social che davvero non si risparmiano a nessun tipo di commento, superando proprio la soia di tolleranza e che magari non posso stare qui a leggere, appunto. E comunque, tipo... Boh, ve ne faccio qualcuno così. Sonia? Fatti schifo da sola. Antonino? Te sei la m che si schiaccia quando cammini per strada. Alfonso? Sei proprio un crete... Di prima categoria, però. Che vergogna. Davvero patetici. Tutti commenti così, anzi, anche peggio. E con questi piccoli commenti mi fermo qui per questa news. Vi ringrazio tantissimo per l'ascolto. Se volete ci sentiremo sicuramente per altre flash news. Vi auguro intanto una buona giornata e a un prossimo video.